il fiume capitolo 3 quanti capitoli aveva il fiume 4 forse 5 non mi ricordo eccolo ti odio vai via sono troppo impegnato e se te lo dice il capo del villaggio allora è vero se mi batterai la cascata si aprirà la barriera e potrai entrare nella sezione successiva dopo i ragni giganti giaguari selvaggi le tartaruga assassine e i tronchi dobbiamo vedercela con un ragazzino sull'ama gonfiabile giallo eh sì mi dispiace e vai corsa corri cuzco fan culo le monete dobbiamo battere il bimbo schifo ti odio vai via bastardo sei anche un baro sputagli cuzco sputagli sto infame dobbiamo avrei dovuto prendere la velocità più che le monete vai via ti odio tanto se mi sei dietro mi puoi solo che spingere sai cosa ecco bravo spingimi in avanti grazie al tuo potere mi mi farei vincere bravo così si fa non puoi batterlo e allora usalo perché mi è apparsa la barra della vita per un secondo vabbè non importa quante monete c'erano in questo livello non ho visto mi sa che dovevo andare di là vero mi sa che le monete erano tutte di là no forse no tronco bravo 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 così si fa spingilo l'avversario spingilo in avanti bimbo di merda no mi è finito davanti lui ora devo vincere la scimmia mi ha lanciato una banana dall'altra parte ok 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 vai 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 catapulta no rocce mio arcano nemico bimbo schifoso vai via allora dovrei veramente fanculizzare le monete ma non voglio lasciare indietro no c'è l'uccello quello lì che fotografa kronk prendi velocità prendi velocità levati dalle balle bimbo schifoso prendi tutta la velocità vai comunque sì penso che dove c'erano le scimmie che ti lanciano il cibo ci siano anche le monete è una sfida seria questa uno perché non voglio far vincere il bimbo che odio nooo ah ti odio bambino yahoo yahoo quanti minuti quattro minuti di episodio no quattro monete no no dannazione per quattro monete all'interno non 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 Grazie a tutti.